Ciao, intelligenze naturali da me, dal pollo Watzlawik. Proseguiamo con la nostra indagine. Siamo vicinissimi a sgominare la banda di trafficanti di polli. Abbiamo raccolto ben due dataset. Uno l'abbiamo preso dalla FAO e riguarda il traffico internazionale di polli. L'altro l'abbiamo preso dall'ONU e riguarda il crimine internazionale. Adesso andiamo a unire questi due dataset in un nuovo notebook che chiameremo... 03 Trafficking Criminals Ragazzi, la cosa si fa sempre più drammatica. La giustizia ci richiede di rischiare grosso. Stiamo rischiando grosso, ma per il pollo Watzlawik questo ed altro. E anzi, con l'occasione, per ringraziare diversi tra di voi, mi riferisco a quella decina di persone che mi commentano i video e mi danno consigli su come proseguire. Mi hanno dato anche degli utilissimi consigli su come impostare i corsi a pagamento. Grazie ragazzi, questo è il momento in cui vi ringrazio. Grazie veramente. Andiamo avanti col notebook. Importiamo anche qui le nostre belle librerie. Importiamo Pandas. Come al solito ci siamo affezionati. Questa qui è una rica che ogni volta che cominciate uno script o un notebook Python, subito import Pandas. Serve sempre. Import Seaborn As SNS, libreria per i grafici. Questa volta, ragazzi, importiamo anche una libreria che è nativa di Python e che permette di lavorare con i comandi del sistema operativo, in particolare per creare cartelle, cancellarle, cercare i file, perché dopo creeremo delle cartelle. Vi anticipo che queste cartelle andranno ai vari agenti segreti che sono sparsi per il mondo e che lavorano al soldo del pollo Watzlawik. Creeremo una cartella per ogni agente di modo che ognuno abbia solo a disposizione i suoi dati e non veda quella degli altri, perché da agenti segreti hanno bisogno di essere ben isolati dal punto di vista informativo. Queste qui sono informazioni molto delicate. Anche qui importo matplotlib.pyplotasplt, perché ci servirà per salvare le figure. Bene, innanzitutto carichiamoci i dataset che abbiamo preparato finora. Uno lo chiamiamo crimes e riguarda il foglio Excel, pd.read.xltheft.xlsx. Carichiamoci anche i dati sul traffico di polli che avevamo già lavorato. Questo qui era in CSV, infatti facciamo read.csv. L'avevamo chiamato chickens. Fantasia che ho. Chickens, eccoci qua. Vediamo un po' giusto al volo che colonne ci sono dentro i due dati. Set crimes.columns, traffic.columns. Allora abbiamo regione, subregione, country, country, tier. Ok, benissimo. Qui abbiamo domain, area, dovrebbe essere il corrispettivo che qui è country. Quindi un primo lavoro da fare è fare in modo che anche in questo data frame area sia chiamato country. È facilissimo. C'è un metodo che si chiama rename. Il risultato va sempre messo in una variabile. Qui sovrascrivo, visto che sovrascrivo a sto punto lo faccio sul posto. Columns, uguale. Qui potete passare un dizionario dove dite ogni colonna che non mi prende area da adesso in poi si chiama country. Sto facendo questa cosa ragazzi, in particolare perché possiamo usare il country, il paese, come chiave per fare la join. Quindi, visto che la colonna del paese è presente in tutti e due i data frame, posso pensare di incrociare i dati proprio in base al paese. Vediamo un po' se ha funzionato. Country, eccolo qua. Ha funzionato tutto bene. Adesso facciamo finalmente questa join e creiamo un nuovo data frame che si chiama criminal traffic, che è proprio l'unione di questi due. Quindi vedete, questo è un data frame, questo è un altro, questo qui viene mergiato, joinato, incrociato, unito con quest'altro. Adesso gli devo dire criteri di unione. On, basterebbe dire country. Però ragazzi, qui una cosa che ci dobbiamo ricordare è che abbiamo anche gli anni e vale la pena di unire in base a tutte e due le chiavi perché non voglio, unendo solo in base al paese, poi gli anni se ne vanno ognuno per conto suo. Invece voglio che l'incrocio venga fatto rispettando anche l'anno e farlo è facilissimo. Basta qui, invece di dire solo una chiave, ne indico due, due series che faranno data chiavi per l'incrocio e unisco sia in base al paese che in base all'anno. Qui se volete dare un'occhiata a merge è veramente una bomba. Prendiamo il nostro data frame. Eccolo qua. Qui ragazzi vedete, potete fare i vari tipi di join. Se avete fatto il SQL, ne conoscerete. Potete fare on come abbiamo fatto noi, ma potete anche dire left on e right on se volete specificare nomi diversi in un data frame in un altro. Quindi se non volevo cambiare il nome di area in country, potevo usare left on, area, right on, country o viceversa, non mi ricordo. Comunque, si è capito. Se ordinario o meno, validazione dei dati, insomma un sacco di opzioni. Come vedete è potentissima. Questo mini corso serve più che altro a darvi un'idea della potenza e di farvi vedere qualcosa di pratico con il pretesto del sgominare la banda di trafficanti di polli. Però ragazzi, veramente sul piano dell'automazione del lavoro e del fare cose rapidamente, questa qui è una bomba. Non mi stancherò mai di dirlo. Facciamo quindi questo merge, criminal traffic. Eccolo qua. Come vedete qui dentro adesso ci sono sia le colonne che stavano dentro un dataset che le colonne che stavano nell'altro. Voglio vedere solo tre righe. Vedete c'è country, l'elemento, la misura, item. E come vedete qui alla fine ci sono anche regione, sottoregione, il conteggio del crimine, eccetera, eccetera. Come vedete qua si ripete più volte lo stesso conteggio. Perché? Perché qui abbiamo per lo stesso paese e per lo stesso anno diverse misure. Abbiamo importo quantity, import value, export quantity, eccetera, eccetera. Quindi esattamente quello che ci eravamo proposti di fare.